parole 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 parola di dru con madame drusilla fuert buonasera dru buonasera emozionata e vabbè insomma giusto che sia non è che vado alla fiera del cingale è anche vero c'è la ferilli no c'è la muti la muti la ferilli questi due giovani attrici ma la sera no parlano solo di drusilla ai giornali eh sì meglio 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 è un senso particolare esatto sei la nostra anziana subretto del futuro dru si ricorda la frase di filogamo buonasera a me lontani ovunque voi siate eh esatto bravo che bellino era eh sì eh sì vero è vero è vero non meno bellino mi piaceva tanto drusilla che a tono sera si respira a Sanremo ma ancora non ci sono perché parto domani ehm però insomma dalle mie colleghe che già sono là eh vabbè c'è un bel fermento poi quello è certamente un palco che agita è una eccetera eccetera per ora sono tranquilla per ora sono tranquilla ma insomma sono anche un po' una scissa sicché probabilmente arriverò lì che mi verrà un attacco di panico ma io cercherò di divertirmi tutto sommato che credo sia l'unica strada assolutamente sì credo che non penserò a tutti gli occhi che mi guardano no però di essere non lo so alla fiera della salsiccia ecco oppure in onda con noi no in onda con voi a far quattro chiacchiere con voi non è che Sanremo è molto diverso da una sagra paesana ecco che Sanremo è una sagra paesana è una roba aggregante come l'unica partita delle nazionali Sanremo è un contenitore così dove l'Italia si riconosce e dove si sente un po' Italia no e quindi ha questo valore aggregante che piace a noi no pensiamo una cosa carina infatti svariate colleghe o colleghi o giornalisti così mi hanno chiesto una cosa piuttosto antipatica mi hanno chiesto ma lei che è così fruffuru, piripi, piripi, dove piripi, piripi sta per grandama eccetera e come si sente di diventare un personaggio nazional popolare io sono felice di piacere al popolo di una nazione, un nazionale popolare, perché tu dici che l'accezione è un po' così… Non può cadere questa accezione, un nazionale popolare è una roba del popolo di una nazione, io la penso così, non so voi, ma è così, ma certo, come dici sempre tu Maurizio, devi piacere al pubblico, perché sennò vai per citofoni, lo fai solo se sei nazionale popolare e Drusilla, a mio parere, è nazionale popolare. Trovo anch'io, trovo anch'io, una macchina drammatica del teatro nazionale, un po' drammatica. Quindi è questa un po' la domanda, l'osservazione che ti hanno fatto più antipatica in questi giorni, perché mi chiedevo come ci si sente a vivere tutto il giorno con tutto ciò che dici potrà essere usato contro di te. Ma io ci sono piuttosto abituata, perché sono un'anziana da vecchia, io dico ormai tutto quello che mi pare, se no è inutile anche invecchiare, se non si ha il privilegio di dire quello che mi ha detto. Quindi se dico una bischerata, diranno che ho detto una bischerata, se dico una cosa ragionevole, diranno che ho detto una cosa ragionevole. Insomma, va bene, il giornalismo deve fare il suo lavoro e io mi divertirò. Eh certo, quello è importante, è uno dei consigli che mi hanno dato più preziosi nella mia vita, quando ero anche agitata, Maurizio, prima di iniziare cinque, ormai quasi sei anni fa il programma insieme. Una collega mi ha detto, però ricordati di divertirti, che sembra una banalità, ma non lo è. No, non è affatto male. Io credo che mi affiderò alle persone a relazionarmi con Amadeus, a stare su quel palco, a guardare i medicisti, a cercare di non fracassarmi il femore a questa spettacola, tutta l'ossoporosi che ho addosso, però di relazionarmi al luogo, alle persone e così, come sempre faccio, insomma, farò pinta di essere in un teatro dove faccio il mio spettacolo. Ma certo, vai. Anche perché so che, insomma, non è stato ancora deciso tutto, nel senso che Drusilla ha proprio il compito di essere se stessa, su quel palco scenico Amadeus ti ha lasciato proprio tutto e tutto lo spazio per fare quello che vuoi tu. Avendo tutte serate consecutive, essendoci la serata prima una serata, non c'è il tempo di provare, di cosare, c'è qualche appuntamento preciso all'interno della serata, ma insomma sarà tutto molto improvvisato e dalle chiacchierate che ho fatto con Amadeus, un po' qua e là, così ci troviamo molto bene e poi ti vedrà, insomma, voglio dire, cerchiamo di divertirci, non si guida uno shuttle, siamo su un palco scenico, si ascolta la musica, si commenterà, una cosa che mi dispiace molto, se lei si ricorda, è annunciare le canzoni senza la sintesi del pezzo della storia, ricorda? Una giovane ragazza si trova coinvolta nei dolori della vita ma inserà con l'amore, di calabrese, è tante, era così, era bello, era bello. E però aspetta, manca un pezzetto fondamentale, dirige l'orchestra? Cinico Angelini, la cosa bella sarebbe riavere il 4 più 4 di Norrlandi. Norrlandi, vabbè, sarebbe una meraviglia, sappiamo solo noi e lei di cosa si parla. Siamo dei sopravvissuti, tu sì. Già, Carlotta è una giovane ragazza contemporanea rispetto a queste informazioni. Ma certo, ma che ne sa lei? Non in generale, solo rispetto a queste informazioni. La sua contemporaneità si percepisce dai sandali mostruosi. Eh, certo. Grazie, Drew. Sei un'amica, Drew, grazie. Invece io non vedo l'ora di vederti vestita per il Festival di Sanremo. Ma lei veste in maniera ironica, non avete capito che la chiara è l'ironia? Ma certo. Lei veste in maniera ironica. Bravo, Maurizio, le fareò fare il mio ufficio stanta. Buon impiede, sì, sì. Ti ci vedo bene, Maurizio. Sì, no, poi mi metto anche cose che ho, perché ho una casa moderatamente grande, ho un armadio piccolo, non è che posso riempirlo di vestiti. E poi io tendo a mettermi le cose che ho, ecco. Sì, sì, ma infatti... Poi mi faccio a queste tante vestiti da sera, quando mi li metto? Nella bara? No, sì. No, no. Quatteduno, un po' di ciccarello, ecco. Però non farò vedere le gambe. Ah, no, eh? No. Niente gambe. Catta. Ma siamo donne, ma oltre le gambe c'è di più? No, niente. A tutta età c'è poco di più. Come l'Avanoni, ho chiuso bottega, non faccio più o meno. Ma è da mochi che ho chiuso bottega. Ci sono le spranghe con le strisce, quelle rosse e bianche. Senti, Drew, ma c'è qualcosa che farai di nuovo a Sanremo che magari non hai mai fatto? Non lo so. Sì, una cosa meravigliosa. Avrò le lente a contatto. Attenzione. I miei signori mi hanno detto, tanto c'è il gobo. Io pensando che fosse sul palco, ho detto, va bene, lo leggerò. Invece l'organizzatrice mi ha detto, ma no, il gobo è sul costone della prima galleria. E' una parola, una parola. No, vabbè, no, potrebbe essere scritta la Bibbia. Il binocolo. Eh, punto. Nulla, ecco. E allora, ieri, per caso, sono passata qui nel mio quartiere davanti a un orologiaio. Io ci entro qualche volta perché è un bel ragazzo, mi fa piacere parlare con lui. Certo. E poi mi tratta un po' come la zia Grulla. E gli ho detto, così questa è cosa delle lenti a contatto. Mi ha messo le lenti a contatto e improvvisamente ho visto tutto il quartiere. E luce fu. E' una cosa meravigliosa. Ma pensa. E mi sono anche vista nelle vetrine. Un mostro, Gandalf. Sì, è sempre meglio vedersi. Un miracolo di sproporzione proprio. E' come quando mia madre mette gli occhiali e mi dice, amore, ma qua le rughe. Mamma, togli gli occhiali, facciamo così. No, un'altra cosa è entrare negli spogliatoi dei negozi di abiti. Ah, mamma. E ci sono dei senti sul retro. Sì. No, ma io... Che uno non lo sa quanto, come è dietro. No, ma io dico, Drew, adesso, voglio dire, ma dovete vendere. No, no, ma dovete vendere. Lo penso sempre anch'io. Ma mettete due lucine un po' soffusa. Quella roba lì, tipo occhio di bue, che ti spara tutti i difetti. Ti fai non compri più niente. Io sembro sempre Lady Macbeth. Queste luci drammatiche. Mamma mia. Vabbè, niente. Che disastro. Ma a una certa età meglio la penombra. Esatto, sempre meglio la penombra. O la luce della candela, che è tanto romantica. Che è tanto romantica. Senti, invece abbiamo messo la ragazza del futuro, perché sei un po' la nostra ragazza del futuro. Ci sarà anche Cesare Cremonini sul palco, che ti ha scritto delle cose molto belle, anche sul suo account Instagram. Quindi noi ti facciamo tutto l'in bocca al lupo più grande. Sarà bravissima. Che abbiamo. Ricordati di divertirti, mi raccomando. Sì, te stessa. Che sicuramente se sei te stessa non può che andare bene. Bene, dai, dai. E poi, però, prima di lasciarci, visto che oggi c'è il disco per Costanzo, solitamente viene scelto da uno ascoltatore al 331 80 90 101, però noi vorremmo oggi che questo disco a Costanzo lo dedicassi tu, Drew. Non so, un disco che magari ti ha fatto emozionare, che ti ha fatto commuovere. Un disco di Sanremo a te, caro. Non ho dubbi. Ho pianto tutte le mie lacrime, essendo una che piange poco. Sì. Ho cominciato a piangere, ci ho messo tutto dentro, no? Quando si piange, e quella stronza di Ornella, e qua, e qui, allora, e... Chiamami ancora amore, che bella canzone. Bellissima. Che bella canzone. Bellissima. E poi mi commosse molto questo signore, che aveva ancora questa potenza espressiva, questo vigore emotivo, su quel corpo, e ha vinto il festival. Il festival del 2011. Sì, era il 2011. Chiamami ancora amore. Vecchioni, grazie maestro. E allora... Alla prossima. Lo sentiamo dopo, Drew. Vabbè, te l'abbiamo detto, e anche carichi di quella cosa che non si può dire per radio, ma che, insomma, ecco. Se lo facciamo il nostro saluto entusiasta, come sempre. No, per forza, perché qua bisogna portare anche un po' di fortuna. Una, due, tre. Evviva. Evviva a te, Drew. Bocca al lupo. Ciao, ci sentiamo la settimana prossima per festeggiarti. Sì, se no mi stronco nelle scale. Basta, non lo devi dire più, Drew, che poi ti porti sfortuna da sola. Basta, non ci pensare. Quando arrivi lì, poi vai. Sì, sì, tutto. La sagra del cinghiale, ok? Sagra del cinghiale. Ciao, Drew, un bacio. Su R101 Facciamo finta che Facciamo finta che Tu sia qui con me Facciamo finta che